Mirko Brunetti parte dal GF senza addio a Perla, ma le lascia una lettera, la sua reazione. Dopo un breve soggiorno nella casa, Mirko Brunetti ha abbandonato il grande fratello senza poter dire addio a Perla Batiero e agli altri coinquilini. Non me lo aspettavo, non l'ho nemmeno abbracciata, ha confessato il concorrente commosso dopo aver letto la lettera che le ha lasciato. Mirko Brunetti lascia il grande fratello. Il giovane di 27 anni è tornato a casa il giorno di San Valentino per trascorrere del tempo con la sua ex Perla Batiero e per chiarire la loro relazione. Tuttavia, è giunta una inattesa svolta, l'ex protagonista di Temptation Island non ha avuto nemmeno il tempo di salutare Perla, ma ha potuto lasciarle una lettera. Mirko lascia il GF senza salutare, e Perla piange Mirko esce dalla casa del GF senza salutare Perla. Gli autori lo hanno chiamato nel confessionale e gli hanno detto di abbandonare il reality senza poter salutare nessuno. La ragazza di 27 anni lo ha scoperto solo in seguito, quando ha trovato la sua lettera. Tornata in cucina con il resto del gruppo, Perla ha raccontato, lo hanno chiamato mentre stavamo parlando in piscina, stavamo concludendo la conversazione, non l'ho nemmeno abbracciato. Non me lo aspettavo. Greta Rossetti ha cercato di consolarla dicendo, non preoccuparti, domani ti mostreranno di nuovo il 100%. Perla legge la lettera di Mirko ed è molto commossa. Bici e alcuni fan di Perletti non si trovano da nessuna parte e ho ancora bisogno di passare del tempo con te. La dinamica tra Perla e Mirko al GF in questi giorni. Nel giorno di San Valentino, Mirko Brunetti è tornato al Grande Fratello e ha avuto l'opportunità di trascorrere del tempo con la sua ex Perla Vatiero, che pochi giorni prima aveva espresso il desiderio di rivederlo. I due hanno trascorso la serata insieme nella capanna, isolati dagli altri concorrenti, consumando la cena preparata dal ragazzo e dormendo nello stesso letto. Tuttavia, non è stata la reunion che molti fan di Perletti si aspettavano, al contrario, Perla ha cercato di baciare Mirko più volte, ma lui ha respinto i suoi tentativi, mostrandosi anche visibilmente turbato. Insomma, i momenti di intimità sembrano non aver avuto l'effetto sperato.